Siamo con Annalisa Mandorino, segretario generale di Cittadinanza Attiva. Oggi siamo alla presentazione del quinto rapporto sulla farmacia. Quali sono gli obiettivi di questo rapporto? Intanto siamo molto contenti proprio perché siamo arrivati alla quinta edizione del rapporto. Quindi il contatto, il collegamento tra i farmacisti e i cittadini anche attraverso questo rapporto viene seguito anno per anno. E si nota come anno per anno c'è un'evoluzione in questo rapporto che è sempre stato un rapporto di fiducia, di prossimità, ma che nel periodo del Covid è diventato ancora più prossimo, ancora più necessario. Perciò anno dopo anno noi ci focalizziamo sui punti principali che possono riguardare la collaborazione tra farmacisti e cittadini. Sicuramente sulla dispensazione del farmaco consapevole, sull'utilizzo sempre più diffuso dei farmaci equivalenti, su campagne di prevenzione che ormai nel rapporto di quest'anno viene fotografato con chiarezza, si hanno in un terzo delle farmacie italiane, in generale nel ruolo della farmacia come farmacia dei servizi, quindi come presidio sanitario di prossimità per i cittadini che hanno facilità di accesso e fiducia nei confronti del farmacista. Perché è importante che i cittadini e i farmacisti continuino questo percorso comune? Perché attraverso il nostro rapporto abbiamo fotografato come il loro sia un rapporto in evoluzione. Quando abbiamo cominciato avevamo anche il dubbio se poter chiamare questo rapporto sulla farmacia come presidio sanitario. Invece questa ormai è diventata un'ovvietà. Abbiamo ragionato sulla possibilità di fare il vaccino in farmacia durante il periodo della pandemia e anche questa poi è diventata una modalità ordinaria. Abbiamo ragionato sul ruolo delle farmacie rurali e nel PNRR è stato riconosciuto questo ruolo, sono state stanziate delle risorse. Quindi noi pensiamo che questo rapporto sia un puntello che anno dopo anno mettiamo alla relazione positiva che si è instaurata tra farmacisti e cittadini e che speriamo continui e possa crescere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.